Ma parlava in italiano? Ehi! Nori, ma perché sei sempre indietro? Hai anche le istruzioni, porco cane in mano! Ascolta, Nori, ti basta guardare le istruzioni! Nel labirinto dei nani, tu sei come un battusso! Nori, parlare con te, guarda, è come... Ma, cazzo, mi sei bloccato il cellulare! Non riesco più a fare le foto, porco, dito! Dovevate spiegarmi le regole? Oh, ma ci sta follando il labirinto, eh! Tutti nel labirinto difficile da trovare l'uscita! Sììì! Che pazza, cazzo! Max, vai a puccare, che so direi biondone! Ma, Natasi, adesso mi lancia! Un cazzo! A puccare, come vuol dire, secondo te? Ma che ne so! Nori, però non vale scavalcare, eh! Secondo me, caro Max, ha fatto colpo! Col tuo dialetto vedeto, tipicamente, in fiammingo, si capisce, chiaraminga! È molto fiamminga! Molto fiammetta! È chiammetta! Ma, Nori, mi fa veramente senso! Ma, Nori, guarda, la punirei... Non mi segui i giordici, cazzo! Guarda, guarda, si inseguono! Ma, si ti ha già preso, eh! Non vorrei dire! A me uno cade, prima o dopo! Sì, se vedi che scompaio il culo! Ma, è bellissimo! Posso dirti, io adesso, farei un coso, Robi, un video, perché secondo me succede qualcosa di... Ma, sì, cominciare comunque a cazzeresco! Guarda, guarda, corrono tutti! C'è una bomba! Guarda che c'è un serpente lì, eh! Vedi che la gente si agita, vedi che si agita! Eh, sì, non so trovarlo riuscita! La Nori, come sta ragionando? La mente... Vedi, la Nori, la Nori, la Nori è irrazionale, è fredda! Perché c'è il buco! Hey, guys! Non vieni più fuori tu, Nori, da lì, lo dico io! La fra è in testa! Ma dov'è il Massi? È il Massi, ha sbagliato street! La giula! No! It's not true, ma è maledno, it's not maledno! Dai, Nori, che sei rimasta dentro! Ragazzi, non so di mai! Tu, Nori, eri così irrazionale che non vieni più fuori da lì! Vai a usare il cervello, brava! Inizia a strisciare! Sai cosa abbiamo filmato? Sì! Come in caso si smonta, si rimonta! Qui lo dico, qui lo nego, la Nori non inizierà mai! No, valido, non valido! It's not legal! Brava, Nori! Brava, brava! Nori, devi prenderlo largo! Non so, Nori, gira dietro il cartellino che c'è le istruzioni! Vedi che c'è fiammini! Qua dietro c'è la piantina! Non vedi che c'è anche l'azze! Nori, guardami! Vabbè! Devi fare il giro così! Vai di là, a destra! Ascolta, Nori, noi finiamo il giro dei giardini! Ci vediamo dopo! Ok, adesso prendi l'azzo! L'hanno già ciulata la pentola d'oro! Non è che... Sinistra! Io andrei da mostro perché c'è il diluvio, perché vedo un nuvolamento... Un albericcio di... Gira! Non ci si traccia, se non vi resta... Andiamo, va! Nori, è facilissimo! Dica! Non andava! Vediamo chi lo fa! L'abirinto dei nani, voglio dire, non è che... Ma se si vede anche l'uscita, cioè... Non è che difficile di perdersi! Peccato che voi non l'abbiate fatto! Perché non siamo ammigappati! E sei perso anche! E io sto prima! Allè, 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 allè! Dai, Nori!